un saluto da carmaniello e finiamo a ginuzziero a tutti eccoci ecco non vi posso fare delle passe con quale si è presentata cosa da spaccargli la faccia vabbè andiamo avanti non ci pensiamo non ci pensiamo non ci pensiamo ma va pensavo fossero due pastarelle carmine prendi una carta vai ce l'ha anche una ci allarghiamo più di due non possiamo perché siamo in due quindi fatele vedere ok ok dammi pure vai con la prima così nel centro ok stessa cosa con la seconda che si vede bene così la inseriamo piano piano in dolore cosa che non gli ho detto mi hai detto una cosa qui sulla cima ho preparato due carte ok che non sono due carte qualsiasi ma solo il primo re rosso che è il re di quadri e il secondo re che è il re di cuore ok quindi il re di quadri e il re di cuore che cosa faremo con questi due re questi due re ok proveranno a capire quale è la tua carta guarda aspetta prima cosa devono trovarla devono trovare prima quella di gialluigi qua fatta poi la tua qua e adesso la prima e la seconda ciao spiegazione prendiamo due re rossi in questo caso ma qualsiasi coppia di carte va benissimo due jolly quello che volete voi in cima facciamo selezionare due carte immaginiamo non so una e due due nove perfetto bisogna portare il 29 nel centro dei due re rossi quindi in questa maniera nella performance utilizziamo un tilt quindi brecca una carta fingiamo l'inserire nel centro ma in realtà inseriamo in seconda posizione e poi un dribble per confondere un po stessa cosa possiamo fare così inseriamo e perdiamo possiamo anche mescolare lasciando inalterate le prime ovviamente diciamo che prima dell'effetto abbiamo preparato in cima delle carte ci occorre invertire il primo re con il secondo quindi semplicemente diciamo abbiamo preparato delle carte sulla cima del mazzo facciamo 1 2 e 3 adesso il re è qui quindi faccio in alto sarebbe 1 2 e 3 giusto per giocare un po con le carte quindi abbiamo fatto questo diciamo guarda in cima del mazzo di carte ho messo due carte ho preparato e ne mostriamo due poi quando richiudiamo qui mandiamo al break direttamente quindi siccome così squadriamo giriamo la prima doppia e mostriamo il nostro re nel mostrare andiamo in copertura in modo tale che possiamo fare una pin count una e due carte quindi già siamo pronti mostriamo torniamo sul mazzo afferriamo il re afferriamo l'altra doppia che ribaltiamo mostriamo il secondo re ribaltiamo sempre in alto e gioco in modo tale da quando squadriamo la carta possiamo una piccola pressione dell'indice crearci un break naturale in modo che non può andare a cercare ogni volta con il pollice afferriamo queste quattro carte ok quindi la situazione in mano è questa qui una volta che stiamo in questa posizione mostriamo le carte al pubblico le mostriamo anche se per uno spettatore la nostra sinistra è perfetto perché andiamo per mostrare a lui quando torniamo di dorso la mano sotto fa questo spinge il re e lo squadra con la carta di sopra quindi lo faccio così da così praticamente a così ok quello che accade è questo con un arbitral position chiusa copriamo le carte la mano sinistra afferra il 9 e la carta superiore quello che accade è questo è un poche parole le due carte vengono estratte dalla mano destra rimangono solamente le carte selezionate ma vediamo meglio per capire per capire due re spostiamo e le uniche due carte che si vedono da sopra sono quelle che rimangono perché accade questo le due carte ci rimangono in mano andiamo sul faccio così andiamo sul mazzo di carte poggiamo sopra e allo stesso tempo andiamo per stendere ok quindi è un unico movimento praticamente la stesa e il change lo faccio veloce l'ultima volta lo mostro ok quindi mostriamo così spostiamo mostriamo e andiamo sul mazzo una volta fatto questo diciamo che i re dovranno cercare le carte scelte facciamo così diciamo che l'hanno trovata e mostriamo come a posto dei re ci sono materializzate le due carte scelte dallo spettatore questa era la spiegazione alla prossima ciao